Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e oggi siamo qui insieme per spiegarti come fare una tinta per capelli a casa scurente con solo il caffè che io ho in questo contenitore Non ti posso far vedere la tinta sui miei capelli perché io sto utilizzando uno schiarente alla camomilla quindi non posso mischiare le due cose altrimenti mi esce un pasticcio in testa tra l'altro ho ricevuto su Instagram, seguitemi su Instagram o su Facebook anche delle domande riferite proprio invece a come far crescere i capelli col caffè e qui farò un altro video a parte Allora il caffè ovviamente, l'acqua del caffè scurisce, va a scurire i peli e i capelli Cosa dovete fare? Dovete semplicemente utilizzare quest'acqua voi andate a mettere il caffè, mischiate il caffè e tutto quanto, lo fate sciogliere Dopodiché andate a fare un impacco, come mettete la maschera, quella normalissima per capelli andate a mettere questa, massaggiate anche il cuoio cappelluto, fate uno scignone tenete tutto a riposo almeno per 30 minuti e poi andate a risciacquare i vostri capelli I capelli pian piano, gradatamente, andranno a scurirsi Mi raccomando, fammi sapere come ti sei trovata con questo rimedio e iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato e lasciami un commentino qui sotto Un bacione